Taxi, farmacie, ma anche gas e rete autostradale. Questi alcuni dei settori interessati dal decreto sulle liberalizzazioni all'esame del Consiglio dei Ministri. Seduta fiume che da stamane potrebbe andare avanti fino a domani. Nel tantam di anticipazioni dietro fronte e smentite che filtrano dalla riunione dell'esecutivo, alcuni paletti sembrano essere fermi. Il filo conduttore del testo e l'apertura al mercato di quanti più settori dell'economia possibili. Confermato lo scorporo della rete SNAM dall'ENI, al quale dovrà provvedere entro sei mesi un decreto del Presidente del Consiglio. L'intervento porterà più concorrenza sul mercato degli idrocarburi, con la conseguente riduzione delle bollette energetiche. Sul fronte carburante, i proprietari di impianti e di distribuzione potranno rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore, evitando così l'esclusiva che, invece, continuerà a gravare su chi gestisce i distributori di proprietà delle grandi compagnie petrolifere. Più concorrenza anche nel settore farmaceutico. Sono previsti, infatti, più punti vendita, sconti sui farmaci non rimborsati dallo Stato e libertà nella determinazione di orari e turni di apertura. Sfumata, nelle ultime ore, la liberalizzazione dei farmaci di fascia C, quelli con obbligo di ricetta non rimborsati dallo Stato. Novità anche per gli ordini professionali. Il decreto allo studio del Governo abolisce i tariffari minimi, lasciando così spazio nel mercato dei servizi ai giovani professionisti in grado di offrire prestazioni professionali a prezzi più bassi. Previste maggiori libertà per negozianti e edicole. Potranno praticare sconti anche al di fuori dei periodi di saldi. Sembra non aver dato i frutti sperati la protesta dei tassisti che in questi giorni ha bloccato la capitale. La categoria sarà sottoposta alla vigilanza dell'autorità delle reti, competente in tema di licenze e tariffe, mantenuta invece la possibilità di essere titolari di più di una licenza.